Seminari insieme, il percorso di incontri promosso dall'Istituto Petrone di Campobasso apre l'anno scolastico. Con la presenza di un ospite d'eccezione all'iniziativa dal titolo Felici si può. Si tratta di Maria Rita Parsi, docente ma anche psicoterapeuta, giornalista e componente dell'Osservatorio Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza e membro del Comitato ONU per i diritti del Fanciullo. Ha parlato ad una folta platea composta da insegnanti, da genitori perché anche allora ha rivolto l'incontro per affrontare con la scuola i temi che interessano dai vicini giovani e il loro futuro. E sulla parola felicità al centro dell'incontro della Petrone ci si interroga spesso. Che cos'è la felicità? Wow! A me mi ha colpito moltissimo madre Teresa di Calcutta. Una giornalista, lei era in un ospedale, credo, di Calcutta. Intorno bambini moribondi, denutriti, donne che dovevano partorire, non ce la facevano, vecchie. E un giornalista o una giornalista gli fece la seguente domanda, non dico la qualità della domanda ma la ripeto. Qual è stato il giorno più bello, più felice della sua vita? Sai che gli ha risposto madre Teresa? Oggi. Allora se mi dici cos'è la felicità io gli dico oggi. Tutto quello che oggi mi manda. Il passato ce l'ho alle spalle e non posso tornare indietro. Il futuro lo sto costruendo. Oggi è quello che conta. Il qui e ora di quello che faccio. E qua a proposito lei qui a Campobasso per parlare ai ragazzi, alle famiglie, agli insegnanti. Il titolo del convegno è emblematico, no? Certo. Perché le prime agenzie educative sono famiglia e scuola. E ahimè sono sul classale del mondo virtuale che manda qualunque tipo di informazione. Sia quelle corrette e utili, importanti in momenti difficili, sia le peggiori. E tra le peggiori ci sono continuamente atti di violenza, di istruttività. Io vorrei dire una cosa. Qui uccidono tre donne alla settimana e alla fine a settembre noi ci abbiamo 80 e passa donne, forse di più, uccise. Perché? Perché abbandonano. E poi ci sono paesi a regione islamica che si permettono di dire che bisogna lapidare le adultere. Beh, se noi dovessimo lapidare tutti gli uomini che hanno tradito le donne, noi vivremmo in pochi uomini, pochi. È un mondo di donne. Il tema della felicità è un tema cruciale della nostra vita. Noi vogliamo preparare i nostri studenti a diventare individui felici. Individui che possano sviluppare una consapevolezza dell'essere e affrontare le sfide della vita in modo sano e con un bagaglio di strumenti sempre più grande. L'incontro rientra nel ciclo di seminari a cui abbiamo dato il titolo di Seminari Insieme. Tratteremo durante tutto il corso dell'anno vari argomenti. E noi crediamo fermamente nell'importanza della scuola come hub di cultura, come organizzatore di processi, ma soprattutto come generatore di occasioni belle. Che cos'è la felicità? Allora, la felicità è qualcosa che ognuno di noi può sentire. Sicuramente la felicità non è una meta, ma generalmente o quasi sempre è uno stato dell'anima. Quindi o siamo felici o non lo siamo. Quindi mettersi nella condizione di raggiungere la felicità, di fare delle cose per essere felici, vuol dire che non sempre raggiungerai quella meta. Però se senti la felicità con tutto te stesso, quindi a livello corporeo, a livello cognitivo, a livello posturale, a livello fisiologico, sicuramente la felicità la puoi sentire in ogni momento.